Io posso dire che sono molto desiderosa e che amano la famiglia religiosa tanta. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E poi qui a Orzano insieme a Sol Lix abbiamo approfondito un po' la dimensione sponsare della vita consacrata e soprattutto ci siamo aiutati da un testo di Biazzuti in cui faceva la domanda come padre Luigi voleva, come padre Luigi sognava le sue suore. Sono state due giornate molto ricche e piene di emozioni. Grazie.